Ed ora siamo allo sport per parlarvi dei postumi della partita che si è disputata domenica scorsa tra l'Alma Juventus Fano e la Maceratese. Postumi che sono costati un'ammenda, una sanzione alla società Granata di 1300 euro e tre giornate a Gucci. Per parlarci di questi episodi e anche di altro c'è qui in studio con noi Sergio Catalani. Sergio buonasera, allora che cosa è successo domenica allo Stadio Mancini? Buonasera a te Lino e buonasera a tutti i telespettatori. Diciamo che come hai detto tu ci sono stati degli strascichi dopo il pareggio a reti bianche tra l'Alma Juventus Fano e la Maceratese. Il referto del direttore di gara Deremigis di Teramo non è stato molto clemente per i colori Granata. Andiamo subito a vedere anche con l'aiuto delle immagini i cinque episodi incriminati partendo proprio dal calcio d'angolo di Borrelli con Nodari. Poi con la regia di mandare indietro con Nodari letteralmente preso per la maglietta da Garaffoni che stava all'altezza del disco del rigore calciando in porta. Con il direttore di gara che lo potete vedere è vicinissimo quindi in posizione chiara per poter giudicare in maniera lucida. Questo è rigore tutta la vita cari amici che il direttore di gara si era ancora sullo 0-0 non se l'è sentita di decretare ma se erano rigori gli altri e lo vedremo beh questo lo era ancora di più con Nodari letteralmente preso per la maglietta. Come potete vedere Nodari il numero 5 preso per la maglietta dal numero 5 Garaffoni che poi come vedremo anche nel secondo tempo si reiterà il fallo e sarà autore di un altro episodio dubbio. Questo è il secondo episodio con il cucchiaio letteralmente di D'Antoni che cerca l'attaccante maceratese il braccio di Borrelli che non può naturalmente smaterializzarsi. L'arbitro anche qui si trova in posizione ottimale per giudicare e fischia un rigore a dir poco esagerato diciamo per non dire altro. Quindi ecco è D'Antoni che cerca il braccio di Borrelli da distanza ravvicinata. Beh per il trequartista di Guglionesi c'è ben poco da fare perché non può ecco togliere il braccio. Quindi episodio dubbio che poi Ginestra parerà il tiro di Cucco e questo è il secondo episodio. Io direi di passare quindi subito al terzo episodio incriminato. Questo è il calcio, beh sì no, ecco questa è diciamo la seconda ammonizione di Lunardini che già ammonito, abbraccia a centrocampo l'avversario. Il Caterino Giavo ci sta, quindi qui c'è poco da dire, sorvoliamo su questo episodio con il giusto provimento disciplinare combinato dal direttore di gara. Mentre qui ecco vedete c'è questo placcaggio stile rugby, sempre lui, di Garafoni su Nodari. con il direttore di gara che addirittura ammonisce, guardate il braccio di Garafoni, numero 5 del Bancelattese, ai danni di Nodari. Il direttore di gara che fa? Va ad ammonire Nodari per simulazione, visto che poi non protesta, vedete? Il braccio letteralmente sulla testa, sul viso di Alex Nodari. Quindi episodio ben più grave, se vogliamo, anche dei due tocchi con la mano di Borrelli nel primo caso. E poi come vedremo l'ultimo episodio di Lollo Fatica, che è questo qua, anche qui con una distanza veramente ravvicinata. Secondo il direttore di gara Fatica tocca con un braccio, ma è evidente invece che la sfera, il pallone, va a toccare, va a lambire la spalla. Quindi ecco, spalla-corpo, tutt'altro che mano, ma siamo veramente a una distanza ravvicinata. Il direttore di gara non è, tra l'altro, posizionato nella maniera ottimale, perché è coperto da alcuni giocatori, quindi fa fatica anche a dare l'esatta dimensione del accaduto. Quindi anche qui è un attestamento spropositato, un rigore che non ci sta. Quindi Alma completamente defraudata, bene ha fatto il Presidente Gabellini a rivolgersi agli organi competenti, nella persona del Presidente della Lega nazionale di direttanti Felice Belloli, quindi incontrerà il responsabile e vedremo se l'Alma nelle prossime partite, che ripetiamo domenica prossima a Giulianova sarà orfana di Gucci fuori per tre giornate, Lunardini una giornata e Sassaroli che sconta l'ultima delle tre giornate, vedremo se appunto l'Alma verrà quantomeno rimessa in gioco dopo i nefasti di domenica scorsa.